Ciao a tutti, oggi prepareremo le digelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, farina di tipo zero, lievito di birra fresco, sale, strutto e zucchero. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per due minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo lo strutto, la farina e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo, adesso stenderemo l'impasto su un piano di lavoro infarinato. Adesso con un coppapasta di 10 cm di diametro ritaglieremo dei dischi. Adesso andremo a cuocere in una padella antiadorente ben calda, senza né olio né burro, da entrambi i lati. Tigelle. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti.